Sì, la Giunta Comunale ha approvato un nuovo regolamento che ha ampliato le durate delle richieste per la ZTL. In buona sostanza residenti, operatori economici e tutti gli operatori che hanno diritto ad accedere in ZTL e ora possono fare delle richieste più lunghe nel tempo, ovvero in buona sostanza un residente che prima poteva fare la richiesta fino al massimo di tre anni pagando 32 euro di bollo ogni richiesta che faceva, adesso potrà fare una richiesta per cinque anni pagando sempre 32 euro di bollo e quindi ovviamente questa proposta allunga il tempo di durata della richiesta e fa risparmiare ai cittadini i bolli che ovviamente per legge sono dovuti ma che comunque era una spesa non grandissima ma comunque fastidiosa per cui si può dire con questa modifica del regolamento delle ZTL, abbiamo ampliato la durata delle ZTL e abbiamo fatto risparmiare ai cittadini soldi che insomma sicuramente fanno comodo. Ad esempio gli operatori economici che ogni anno dovevano rinnovare il permesso in caso di entrata ora lo potranno fare ogni tre anni, ovviamente riducono di tre volte i tempi di attesa, la burocrazia eccetera quindi sicuramente questo è un buon risultato anche in termini non solo economici ma anche di perdita di tempo e questo ovviamente siccome il tempo è denaro sicuramente per qualcuno può essere un vantaggio non da poco.